eccoci qua eccoci qua un minutino ci siamo preparati per questa puntata insomma un po' trasversale che parte da un'analisi di calcio abbiamo bisogno abbiamo preso un po' di ossigeno ma anche un po' di non lo so se di stimoli non lo so sapendo che non faremo la prossima champions dalla finale ieri sera ha vinto il manchester city 1 a 0 per carità tanti uentini hanno festeggiato abbiamo fatto una bella live stanotte devo dire anche però però fa ancora più male non so se è vero se vale anche per voi mister francesco eccolo ciao luca ciao ciao tutti già stiuve ovviamente lo conoscete anche per essere insomma uno dei dei volti e dei registi a livello di contenuti del canale ufficiale juventus ma poi lo trovate tutti i social giuseppe ciao ciao luca ciao mister ciao tutta la chat come averla vinta noi non lo so io io ci ho visto del come diceva in un film nella vita c'è il dolce e c'è l'amaro ieri sera ho sentito tutte e due all'interno del il gusto finale per carità poi è stato liberatorio ma non so poi da uomini che commentano la juventus praticamente quotidianamente tutti noi in qualche modo no chi ha lavoro chi per lavoro chi per passione pura è però intanto dobbiamo scontrarci con questa cosa qua c'è stata la finale Champions è stata una finale tiratissima una finale che non ha avuto un segnale univoco la vinta al Manchester City ha detto bene secondo me Simone Inzaghi quando ha detto il Manchester City ha meritato di vincere per quello che ha fatto in questi anni cioè come prodotto in qualche modo del era scritto un po' delle stelle l'ha detto Guardiola era il prodotto di un lungo percorso che aveva avuto anche degli incidenti eh di risultati non da poco tra te che Guardiola sostanzialmente fa capire se il DS direttore sportivo e l'amministratore delegato non fossero stati dei miei uomini o meglio se non fossimo stati davvero una squadra unica fin dall'inizio forse non sarei stato io ancora a giocarmi questa questa finale. Voi come l'avete vissuto? Allora l'amaro per me è stato l'inizio vedere la preparazione l'entrata in campo delle squadre l'inno della Champions insomma quella è una cosa che ti ti brucia dentro il fatto che ci sia l'Inter e non ci siamo noi. Il dolce è stato sicuramente il finale cioè il vedere comunque che ha vinto il Manchester City eh non è stata una gran partita diciamo emozionante è stata molto tattica sia da una parte che dall'altra perché il City io l'ho visto tante volte quest'anno e ho notato un atteggiamento diverso eh nell'approccio alla partita si vedeva che Guardiola temeva l'Inter temeva le ripartenze dell'Inter e quindi i giocatori erano un po' frenati non c'è stato il solito inizio a sprombattuto a cercare di di chiudere la squadra avversaria nella metà campo nella loro metà campo ma è stato un City un po' così un po' vorrei dire molle però insomma che correva meno del solito eh però diciamo che come hai detto tu Luca cioè il City l'ha meritata per il percorso che ha fatto ha sbagliato sbagliato tra virgolette una partita cioè quella di ieri ma comunque tutto il resto è stato fantastico e anche ieri pur giocando non bene si è visto che con i principi di gioco che ha con il modo di attaccare con il modo di muoversi in campo poi alla fine anche una partita in equilibrio la puoi comunque vincere è infatti il gol è nato da un'azione tipica proprio tipica del City quindi io sono contento per due motivi uno perché ha vinto il City e Guardiola e l'altro perché ha perso l'Inter ovviamente eh non sto togliendo nulla assolutamente e ci siamo passati tutti dal non so l'ora due ore successive a triplice fischio insomma si è perché eravamo tutti nel blue moon style però però poi c'è c'è il fatto che noi tutti i giorni adesso per un po' di tempo ci confronteremo con questa musichetta Francesco che 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 ci viene sottratta però devo dire prossimo anno nonostante la quota punti non faremo la Champions League però devo dire che negli ultimi anni da Cristiano in poi già quella musichetta l'avevamo un po' male cioè un po' arresi come dire il nostro treno è passato non l'abbiamo preso e tanto non è il nostro turno e vedere che l'Inter insomma alla fine ha avuto dignità nel stare dentro quella finale ecco questo possiamo dire almeno io mi sento di dirlo eh per noi eh cioè per il mondo Juve e tutto il resto comunque motivo di riflessione in più ecco Giuseppe anche il tuo commento su quanto ho vissuto e visto ieri allora eh io ero molto teso prima della partita perché io pensavo davvero che l'Inter aveva molte chance di di vincerla anche ieri dunque io non facevo parte del Gareth Bale team che pensava al 5 a 0 io pensavo davvero che avevano eh le le loro possibilità anche perché in finale c'è l'aspetto mentale il sit era stra favorito lo sapevano tutti anche loro perché in Inglaterra ma anche nel mondo tutti li davano per stra favoriti avevano perso una finale due anni fa dunque sapevano che non potevano sbagliarla e questo quando giochi sapendo che sei favoriti che non puoi sbagliarla e puoi giocare a un po' di scherzi dopo c'è De Bruin che si infortuna e lì hai paura però io ti dico la verità il gol di Rodrigo Rodrigo ho esultato molto dopo il dopo il fischio anche molto ma ti dico la verità Luca sono molto più felice e contento che l'Inter non ha vinto più del fatto che ha perso non so se mi spiego perché l'Inter che perde alla fine non cambia niente per me Juventino non cambia la stagione che abbiamo fatto però il fatto che non hanno vinto è molto importante per me perché ma infatti ma infatti il tema il tema diciamocelo da un lato c'era la sconfitta memorabile non si poteva dire però non si poteva dire sembrava anche ci sono grandissimi precedenti nei finali Champions quelle batoste memorabili sì forse una noi l'abbiamo vissuta no che era il Cardiff però però ecco c'era o come dire quella batosta lì oppure l'estremo dall'altra parte era fate qualcosa perché non la vinca l'Inter e quel qualcosa e poi alla fine è molto fuori scusa vorrei ricordare a Fabio che fa ironia eccetera che il dottor Bognanni lavora in Belgio vive in Belgio da anni quindi se può ripeterci la esatta la pronuncia del centrocampista del city Kevin De Bruyne come si dice Charles de Ketelar per esempio o altri eh però è Kevin De Bruyne De Bruyne imparate invece di venire qua e pensare che che le cose che succedono qui succedono per casa lo so benissimo allora prossima volta non scrivere messaggio va bene ci sono i Beatles allora aspetta Luca e i Rodri Stons lo dico per le Juventini per l'anno prossimo perché chi sa per il belga quadra cosa per no è olandese si chiama Huyzen Dean Huyzen non perché so che sarà difficile lo dico oggi in anteprima Dean Huyzen attenzione a quel giocatore che arriverà in prima squadra forse ok mentre invece la pronuncia di The Winter The Winter The Winter The Winter ok intanto eh sì adesso tutte le pronunce non c'è eccetera Beppone Beppone nostro numero uno vero Gobbo schiena dritta ciao Francesco saluto Francesco Fiochiaro Luca Romano siamo qua per fare un'analisi eh che riguarda la Juventus dobbiamo raccoglierci e provare immaginare qualcosina che sia un po' più avanti l'eredità di questo anno eh di questi tre anni direi eh il primo di Allegri e questo qua che è stato sono due anni in uno non so come dire questi questo appena passato sono due anni in uno quindi diciamo che sono come fossero tre stagioni proviamo anche a farvi vedere qualcosa a porre qualche suggestione sia in chiave nella testa di Allegri allora ci può essere questo tipo di ricetta sia in chiave assoluta cioè regole dal nostro punto di vista ci confronteremo eh che possono valere un po' in assoluto cioè a prescindere da quale possa essere l'allenatore oggi io leggo ancora il mercato dei quinti ok ma la Juve eh quindi sa già che giocherà con la difesa tre coi quinti ricordiamo che Allegri fino a ottobre scorso voleva uscire dal loop della difesa cinque ok a tre a cinque no dico a cinque sai perché perché ieri il sito è difesa tre ma quella è una difesa tre non è una difesa cinque la nostra la nostra ma anche quella dell'Inter è una difesa cinque punto ecco chiamiamole così sei d'accordo Zendolo su questa osservazione? Sono d'accordissimo però prima di parlare di Juve possiamo chiudere la parentesi andiamoci andiamo sulla Juve poi arrivere faremo allora lo dico fino verso le diciassette tecnica tattica e parliamo di calcio applicato con delle cose che su quelle vogliamo confrontarci perché la Juve da qualche parte deve ripartire poi mercato arriva anche Nicolo Schiera prego mister no volevo io ho isolato solo due tre slide sulla partita di ieri ovviamente sul gol e su un'altra azione del siti vorrei farle vedere perché c'è da illustrarsi gli occhi per le azioni che hanno fatto e ci tenevo appunto questa è un'azione del primo tempo secondo me fantastica cioè seppur l'Inter fosse chiusa bene e chiudesse bene le linee di passaggio qui vediamo il siti come riesce a bucare centralmente la difesa dell'Inter facendo cosa? Tre passaggi vedete come Gundogan faccia da quasi da trequartista cercando di portare fuori Darmian dalla difesa dell'Inter creando quel buco dietro le spalle e De Bruyne vada proprio a mettere la palla in quel buco qui c'è Rodri, Gundogan e De Bruyne che giocano per Holland e Holland va ad attaccare quello spazio poi Holland andrà a tirare non bene praticamente sulla figura di Onana e questa secondo me è un'azione ne hanno fatta una sola di questo tipo qua anche perché l'Inter è sempre stata molto attenta a questa situazione però vedete come eh se i giocatori hanno in testa questo tipo di azioni poi prima o poi nella partita qualcosa esce perché la vai a cercare perché i giocatori si muovono per cercare quel tipo di situazione e poi ho eh non so se volevate fare commenti su questa su questa azione se lo faccio vedere il gol che è un'altra ha parlato l'unico commento che mi viene da fare che Guardiola nel nel dopo partita ha parlato dell'assenza eh di corridoi sì corridoi li ha chiamati eh centrali corridoio qui corridoio non c'è il City se lo inventa ecco io se devo fare se devo fare mentre in occasione del gol c'è il corridoio e e quando c'è il City ci va sempre eh nella azione che porta il gol poi di Rodri eh qui devo dire che a Guardiola eh potessi ribattere ma amabilmente direi eh Peppe però eh se non c'è la vostra bravura e crearli l'avete fatto una volta sola che è stata questa crearlo dal nulla e questa è sempre stata la fantastica cosa che osservi eh del Manchester City no? Ecco questa è l'osservazione che faccio. Ma ti dico eh poi ripensando bene alla partita secondo me non ne è uscito uno solo soprattutto nel primo tempo perché il City aveva paura di giocare palla dentro ha giocato molto in orizzontale anche lo stesso Rodri che tra l'altro nell'intervista post partita ha detto di aver giocato malissimo nel primo tempo si vedeva che è giocato proprio orizzontale sempre cercando la soluzione sulle fasce mai dentro questa è l'unica volta che lui ha cercato una un'imbucata dentro secondo me non ha uscito secondo me Rodri non ha fatto un brutto primo tempo rispetto di diversi altri compagni uno che ha sbagliato la partita secondo me è Gundogan che si vede dai primi minuti il giocatore fondamentale per il City già dai primi minuti una quantità di errori di Gundogan e secondo me non ha favorito questa giocata qua vedi che qui tu hai mostrato proprio Rodri Gundogan De Bruyne ma il concetto è che Gundogan si è mosso poco era sempre uomo addosso ha sbagliato tanto e quindi queste giocate Rodri non le aveva ha giocato in orizzontale cosa che sa fare molto bene diciamo Rodri anche in orizzontale non ha problemi anzi è il suo pane però secondo me è stato svantaggiato dal fatto che Gundogan non era in grande serata fondamentalmente anche per merito dell'Inter sicuramente che aveva preparato era uno degli uomini chiave del City un uomini del momento se prepari la partita la prepari su Holland per i movimenti eccetera e in questo momento più su Gundogan che su De Bruyne perché De Bruyne è uno che va in giro per il campo che è diverso quindi non è che poi però Gundogan invece è lo scarico preferito del City per la rifinitura e quindi da questo punto di vista poi Rodri ha tirato fuori il gol comunque io Stones alla Milinkovic l'ho detto anche su Instagram ragazzi ma da quando c'è Stones è stato cioè da difensore centrale è diventato Milinkovic Savic è questo 3-2-4-1 di Guardiola che è fantastico perché praticamente in fase di non possesso è un 4-4-2 classico dove Stones va a fare il centrale e il momento in cui però la palla ce l'hanno loro Stones si alza e si mette di fianco a Rodri No no, va ben più su No no, ma quando si abbassa Gundogan si alza lui quindi è proprio gioca da centrocampista e questa è una cosa secondo me fantastica e nell'azione del gol, guardate qua, qui è Akanji che porta palla Però qui il corridoio c'è E qui il corridoio c'è ma guardate chi sta attaccando Sta attaccando Stones sulla fascia che è il difensore centrale Akanji porta palla che è l'altro difensore centrale Guardate quanti giocatori del Manchester City attaccano l'area di rigore Quindi costringono l'Inter a schiacciarsi E poi vedete questo schiacciamento dell'Inter dentro l'area Provoca questo Vedete quanti giocatori del City hanno attaccato l'area piccola E quindi portandosi dentro tanti giocatori dell'Inter E quindi si è liberata l'area di rigore per l'inserimento da fuori Vedete nella slide precedente Rodri lo vedete qui quasi disinteressato all'azione Ecco non è sulla linea di passaggio E poi poco dopo lo vediamo dentro l'area ad andare a raccogliere questo pallone Questa è la classica azione del City Che praticamente attacca l'ampiezza con un giocatore Quindi tiene il terzino o il quinto distratto da quest'azione Si apre il buco e in quel buco si inserisce un qualsiasi giocatore In questo caso Silva ma può essere Gundogan o Grealish o altri giocatori Però vedete che appunto è per rompere la linea difensiva Di una squadra schierata bene come l'Inter L'unico modo è quello è attaccare lo spazio senza palla Per creare movimenti pericolosi per la difesa avversale Quindi queste erano le due slide sul goal che volevo far vedere Chi se ne frega della partita di ieri Però ragazzi il problema è che il prossimo anno O facciamo finta che non esista la Champions Smettiamoci solo d'accordo per noi va bene Facciamo finta che non esista Ma queste squadre qui la giocano La rigiocheranno Noi tutto sommato ci ha riportato anche Io devo dire da un lato l'amarezza Una parte dolce era anche dovuta al fatto che mi ha fatto ricordare Che poco tempo fa c'eravamo noi Ci siamo stati E che comunque E che comunque abbiamo Ecco per esempio mentre l'Inter ha fatto una finale Secondo me molto vicina al massimale del suo livello Noi il massimale l'abbiamo fatto Non so forse a Berlino Ma quando già eravamo in svantaggio Cioè noi a Berlino abbiamo iniziato a partita 1-0 Il primo quarto d'ora è stato da incubo È iniziato a partita 1-0 Perché se no per il resto forse sì Effettivamente anche noi a Berlino Poi Cardiff è tutta un'altra musica Momblano è arrivato un altro Belga Qui i Belgi sono grandi protagonisti I Juventibus Ragazzi oggi siamo già quasi 2000 Adesso partiamo con Juventus Come argomento Juventus Momblano stai cannando tanto quest'anno Ditemi cosa è successo C'è stata una Allora se voi mi dite È successo questo E tu avevi detto di no Cosa è successo? È successo niente Quando si va a consuntivo A dire tanto Momblano mi sembra che cannerai tanto quest'anno Mi sarebbe stata secondo me declinata meglio Sei d'accordo Just? Sì sì ma io sono un grande tuo fan Da anni ormai No ma lei deve essere fan Allora cosa è successo? No ma io sono fan perché ti capisco Perché so come conti le storie eccetera eccetera Ma quest'anno è molto importante Vedere quello che c'è sul foglio E sul foglio non c'è niente Dunque per il momento Non hai cannato niente Se ne è andato Luca Ah no c'è c'è No no è che arrivano continuamente messaggi eccetera Mister adesso la palla La gestisci tu Per fino almeno alle 5 Io sono qua con te Io e Giuseppe facciamo un po' da partners Avremo un sacco Io avrò tante domande Te lo dico già Perché io proietterò Queste cose che sono Il presente della Juventus diciamo Il present continuous della Juventus Quello che è stato quest'anno eccetera E quello che tuttora I tesserati di Juventus sono questi I ragionamenti devono essere fatti su questi Eccetera eccetera Io ti butterò sempre Un po' la palla in avanti Ok quindi come dire Ma e se così Allora questa cosa come potremmo fare O se cosa come potremmo fare Ovviamente legato a Alcuni punti Alcuni messaggi chiari Che ci ha dato questa stagione Mister Aiutaci tu a creare La roadmap Della puntata E andiamo A fare un po' di Di domande Dal mio punto di vista E credo che Giuseppe Si aggiungerà con le sue considerazioni Lui Anche uno che Tra l'altro anche sul tuo canale Giuseppe ogni tanto Tu metti giù qualche Pedina Guarda io ho provato anche per la stagione Ma l'hai mai portato L'hai mai portato Francesco Ospite da te Francesco ancora nome Le sue slide ogni tanto si Ah voi Juventini Chiedo il permesso Avanti partiamo Allora io nell'analisi Sono partito dai sistemi di gioco Che abbiamo visto quest'anno Ho trascurato La parte di stagione Prima del mondiale Ok quindi Quindi 2023 Sì anche se Probabilmente Lazio Juve Lazio di Coppa Italia Era prima del mondiale Adesso No forse È l'ultima È l'ultima prima della sosta Esatto Lì c'è qualcosa Però insomma Volevo far vedere Come la Juve ha giocato quest'anno Come si è messa in campo Come ha costruito il gioco E quindi poi dopo Da quello Si può partire a pensare Come Allegri È stato confermato lui Quindi dobbiamo partire da lui Potrà pensare alla Juve Dell'anno prossimo Quindi sono partito Dal sistema di gioco Che ha utilizzato di più quest'anno Che è il 5-3-2 Allegri Ovviamente la sua idea Inizialmente era quella Di fare un 4-3-3 Con due esterni offensivi Come Di Maria Chiesa-Barracostic La punta centrale E poi un centrocampo a tre Classico Delle sue squadre Della maggior parte Delle squadre allenate da lui Poi dopo gli infortuni E tanti episodi L'hanno portato A mettersi con la difesa a tre Anche per valorizzare un pochino Le caratteristiche di alcuni Dei suoi giocatori Penso a Bremer E diciamo anche lo stesso Sandro Cercare di recuperare Sandro Come difensore centrale Visto che la terzina Non funzionava Ecco quindi Il 5-3-2 Che abbiamo visto Della Juve Ecco questo è proprio Con la Lazio Ho scelto con la Lazio Perché Con la Lazio Probabilmente Nella prima parte Sono state le partite In cui la Juve Ha funzionato meglio Ha giocato meglio Qui Già lo vedete Un 5-3-2 Classico Proprio con la difesa Cinque in linea E sempre i centrocampisti Le mezzali che escono Già Più alto Del solito Quindi posizionato Sui 35 metri E questa è una cosa Che non abbiamo visto Spesso Durante la stagione Perché Normalmente Questo 5-3-2 L'abbiamo visto più In questa situazione Quindi Soprattutto Quando la Juve Passava in vantaggio Sempre molto basso Con un blocco Molto basso A ridosso Dell'area di rigore A concedere Il possesso Palla Agli avversari E quindi Diciamo A fare Molta densità Nella Nella zona Difensiva Della Juventus Quindi abbiamo Un altro esempio Qui siamo addirittura Col Siviglia In casa Vedete Sullo 0-0 Molto schiacciati Molto Sempre col centrocampo La linea di difesa Dei cinque difensori Molto Schiacciata Sul centrocampo E viceversa Più il centrocampo Schiacciata Sulla difesa Qui lo vediamo Lo vediamo Molto bene Quindi questo è il sistema Di gioco Che noi abbiamo visto Più spesso Quest'anno Sia nel partire Dall'inizio Ma quel Juve Lazio Di Coppa Italia Di Coppa Italia Sì Quindi è 2023 Sì 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 Per quello Dicevo Ma comunque Quello l'abbiamo usato Le otto partite Di fila vinte Senza subire gol Sono state giocate Principalmente Con quel sistema Di gioco Quindi La Juve ha trovato Una certa solidità Difensiva Con questo sistema Di gioco Ha cercato Soprattutto dal punto Di vista tattico Di concedere Agli avversari Alcune situazioni Tipo il cross E il tiro Da fuori Per Dando tanta Densità centrale Ed evitare Le imbucate Questo Diciamo La parte difensiva Della Juventus Diciamo La strategia difensiva Della Juventus È sempre stata questa Tanta Densità centrale Concedere cross E tiri da fuori Ecco Questo L'abbiamo visto In tutta In tutte le partite In cui ha giocato Con questo sistema Di gioco Il sistema di gioco Alternativo È stato Il 4-4-2 Che abbiamo visto Più spesso E questo È un 4-2 Che ereditiamo Anche dalla stagione Passata Il famoso 4-4-2 Storto Dove Non è un 4-4-2 Classico Quindi con due Mediani E due ali Che fanno Il lavoro Sulle fasce E quindi Lavorano Ad aiutare Nella fase Di non possesso In linea Ma con Un centrocampino Una mezzala In più Che però Scivola Sulla fascia E va A giocare Va a prendere Soprattutto in fase Di non possesso La posizione Del centrocampista Laterale Ecco Spesso capivi Come andava La partita In base a dove Era sul campo Kostic Perché se Kostic Si abbassava Troppo Avevi capito Che sarebbe Molto difficile Anche uscire Da questi Cinque Dietro E spesso Noi lasciavamo Palla Agli avversari Con Kostic E Quadrado Lì dietro Era molto Molto difficile E anche Quando tu guardavi Le hitmap Dei giocatori Sul campo Vedevi che C'era Quell'ambizione Di tenere Kostic Un po' più alto Quadrado Un po' più dietro Però alla fine O finiva Un 4-4-2 O finiva davvero Quando eravamo Schiacciati In quei cinque Dipendeva molto Da Kostic Dove era in campo Sì è proprio così Nel senso Che lo vediamo Cioè Per esempio Io ho preso Per il 4-4-2 La partita Con la Fiorentina Dove Vedete che Kostic Si trova Sulla linea Dei centrocampisti E dall'altra parte C'è Di Maria Mentre Chiesa e Vlaovic Sono le due punte Quindi Anche in questa partita Spesso si è visto Scivolare Kostic Sulla linea Dei difensori E quindi Mettersi a cinque Oppure stare più alto E quindi fare Un 4-4-2 Qui lo vediamo Col Bologna Vedete come Kostic Cioè La Juve difenda proprio Col 4-4-2 In questa situazione In realtà 4-4-1-1 Abbiamo sempre fatto Come sempre abbiamo fatto Il 5-3-1-1 Però comunque Qui lo vedete Kostic Più alto E non Sulla Sulla linea Dei Difensori E questo È stato Soprattutto nella seconda parte Della stagione Un motivo ricorrente Cioè la Juve Che passa da una partita All'altra A fare il 5-3-2 O il 4-4-2 E questo è successo Quando abbiamo iniziato A recuperare I giocatori in attacco Cioè quando Chiesa Ha incominciato A recuperare Quando ha avuto A disposizione Milik Vlaovic E Ken E quindi Allegri si è trovato A dover Provare A schierarli tutti O almeno Diciamo Un tridente Però non con un tridente Classico Ma sempre giocando Con il 4-4-2 Come abbiamo fatto No allora Rispondo Rispondo a Luca Ballo Solo slide di fase difensiva Perché non attaccavamo mai No No Io Noi non abbiamo scalettato La puntata Però io conosco il mister Adesso un po' di zona insieme L'abbiamo fatti Continuate a seguirci Perché faremo degli speciali Nell'estate Sia più brevi Tematici Sia qualche live Ovviamente Quando c'è la polpa Però Se lo conosco Lui ci sta facendo vedere Il dispositivo Di 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 La difesa A 5 Per come lo facciamo noi E ci vuole portare Forse a pensare Qualcos'altro Vuoi portare Noi O pensi Che Allegri Se sarà Allegri Però noi ragioniamo Anche con la slide Questa Juve Sarà ancora di Allegri Poi dopo Facciamo gli aggiornamenti Su tutto Perché c'è Come sapete Una moltitudine di voci Ancora che resistono E delle situazioni Non solo da verificare Ma anche ormai Abbastanza cristallizzate Che tra poco vi spieghiamo Però tu dici Anche Allegri Nella sua testa Da questa stagione Si porta dietro Che La difesa 5 In qualche modo La deve La deve Di nuovo archiviare Cioè Salva gente Che all'inizio Non utilizzerà Proprio perché Sarà una stagione Magari Dove ti giochi Tutta Tutto il voto Tutta la credibilità Dell'annata Te la giocherai Lui o un altro Sul campionato Non sulla conference Non sulla Coppa Italia Penso Stiamo d'accordo Io guarda Ho avuto questa impressione Verso il finale Di stagione Proprio nel vedere Il tentativo Di Allegri Di comunque Cercare di schierare Quando possibile La difesa 4 Io Per lo storico Di Allegri Ho l'impressione Che lui Non ama La difesa 5 Ecco La fa Quando deve cercare Magari di tenere Un risultato Durante la partita O quando Proprio le caratteristiche Dei giocatori Lo portano Ad andare lì O la BBC O la BBC E la sfrutto Al 1000% Ma Appena ne ho l'occasione Sfrutto Una delle BBC Delle tre lettere Piuttosto a gare in corso Quest'anno però Credo che abbiamo giocato L'80% Dei partite Con la difesa 5 Ma non è per Non è anche per No Non puoi sfruttare Però Per obbligazione Perché eravamo obbligati A giocare così Anche con un Bremer Che si trova Un po' più in difficoltà A 4 E questo sarà per me Un grande tema Anche per l'anno prossimo Ma anche per il discorso Dei terzini Quest'anno In possesso Non è andato così Costantemente a 4 Cosa che in passato faceva Cioè costruiva a 4 Quest'anno spesso La Juve Secondo me Proprio perché I difensori che adesso Sono Un po' meno completi Rispetto Lui Tende a far costruire A 3 Sì Poi si spostava Danilo Veniva a centro Campo però Non so se la Non costruivamo Veramente a 4 Poche volte L'abbiamo fatto L'abbiamo fatto Verso la fine Luca In maniera costante Anche quando giocavamo Col 5-3-2 Si costruiva a 4 Infatti Le ho Le ho messe Qualche slide Della costruzione Del gioco Ed è quello che mi fa Pensare Che secondo me Allegri Nella sua testa Vorrà tornare A giocare Con la difesa a 4 Ecco però Questa osservazione Cosa dici Se Bremer Non sa giocare a 4 Può essere tranquillamente Ceduto Non è vero Che non sa giocare a 4 È vero Che se lo fai giocare a 4 A sinistra Lo metti ulteriormente In difficoltà Però secondo me Come centrale di destra Con un mancino a sinistra La difesa a 4 La può fare tranquillamente Allora al prossimo Giochiamo con Danilo E Bremer Coppia centrale Titolare Può essere Ma secondo me La Juve sul mercato Per prendere una centrale Di sinistra Mancino Ci tornerà E potremmo Probabilmente Vedere anche Danilo Tornare a giocare In fascia A fare il terzino Secondo me A vedere come Mister Io ho provato A fare due squadre Ieri In termini Anche con i nomi Che si sentivano E anche in termini Di liquidità Quello che possiamo Spendere o no Se tu vuoi passare A difesa a 4 Devi spendere Molto di più Che se tu rimani Con la difesa a 3 E allora Io penso Che il nodo Del mercato Passerà anche da lì Cosa fai? 3 O 4 Vai più 4 Ma sei in sede In sede Di Summit Allegri non ti risponderà mai In maniera definitiva A questa domanda No Ovvio Però se tu devi fare il mercato Luca Se tu vuoi passare a 4 Ti mancano Non 1 Non 2 Ma 4 Terzini Forse il mister Ha ragione Passi di nuovo Con Danilo A destra Chissà O anche a sinistra Ma non è che Cambiaso E hai risolto tutto Hai bisogno di investire lì E non su un giocatore Su di più Io penso che il mercato Sarà molto fondamentale E io penso E spero che il mister Chi sarà? Sarà Però che il mister Dice voglio giocare a 4 A 3 Perché altrimenti Il mercato diventa Molto difficile Puoi riassumere Perché la difesa a 3 Non va bene? Perché difesa a 5 A me va bene No 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 Parlo con mister Scusa Perché ci aveva Ci aveva portato un po' lì Non è che non va bene È che Il problema è che Mettiamo tanti giocatori Dietro E ne sottraiamo davanti E davanti Noi abbiamo tanti giocatori Che Secondo me Possono essere sfruttati In maniera diversa Da quella Di quest'anno Quindi Secondo me Allegri La difesa a 4 Ti permette Molte più soluzioni Davanti Rispetto alla difesa a 3 Perché? Perché lui ha in testa Alcuni sistemi di gioco Con la difesa a 4 Partiamo dal 4-3-1-2 Che è il suo sistema Di gioco classico Al quale lui vuole Sempre tornare E l'abbiamo visto Però c'è il 4-3-3 C'è il 4-2-3-1 Invece con la difesa a 3 Lui ha sempre Solo fatto il 3-5-1-1 E quando ha tentato Di fare un 3-4-3 O un qualcosa diverso È sempre andato male Perché secondo me Lui non li ha Dentro questi sistemi Di gioco Ma io non li ha Perché anche il 4-3-1-2 Che Allegri adora Ma nel calcio moderno A giocare col trequartista Quasi puro Devi avere il giocatore giusto Se non Non puoi farlo E col ruolo È veramente difficile a fare Più passano gli anni Più è complicato quello che dico, infatti tante squadre anche di altissimo livello giocano con due vuoi giocare con uomini tra le linee? Ne metto due il City gioca con due uomini dentro, non con uno, non ha il Zidane, non c'è in circolazione quel giocatore quel livello che può stare lì però il 4-3-1-2 è parimenti complicato, secondo me quello che intendi dire è che il 3-4-3 è un sistema molto peculiare cioè è un sistema che se tu vuoi giocare così ci sono alcune cose alle quali non puoi derogare ok? Giocare uomo su uomo avere rientri continui da parte degli attaccanti disponibili, avere gamba, sacrificio a interscambiarsi ci sono tante cose che non rientrano per esempio nel gioco posizionale di Allegri questo ha delle peculiarità molto specifiche come al contrario le ha anche il 4-3-1-2, il rombo che non fa quasi più nessuno vorrei ricordare sì sì, è proprio così nel senso che ci sono delle uscite diverse delle contrapposizioni diverse il 4-3-1-2 perché è più semplice per lui? perché in fase di non possesso lui, il trequartista che di solito usa lui mette un centrocampista offensivo a fare il trequartista scende a fare l'interno scende a fare il quarto e difendi sempre 4-4-2 quindi per lui è sempre uno scivolamento che abbiamo visto tante volte per quello dico che è più vicino al suo modo di interpretare i movimenti soprattutto in fase di non possesso per questo intendevo che l'avere la difesa 4 gli dà più soluzioni tattiche e io credo che lui tornerà a quello poi dipende tutto bisognerà vedere il mercato quindi come ha detto Giuseppe se andremo a prendere dei quinti la strada è quella è chiaro se andremo a cedere qualche punta è perché vorrà giocare con due punte e quindi se non prenderemo esterni offensivi alla spara un nome alla Orsolini vuol dire che vuoi giocare con le due punte centrali quindi lì le strade sono poche volevo concludere col discorso dei sistemi di gioco parlando del 4-3-3 quest'anno qualche volta l'abbiamo visto l'abbiamo visto per esempio con lo Sporting siamo andati a giocare proprio a Lisbona con il 4-3-3 e qui lo vedete molto bene con Locatelli proprio nel ruolo di metodista davanti alla difesa l'abbiamo visto sempre con lo Sporting vedete simile al cioè più un 4-5-1 4-1-4-1 sempre con Locatelli pronto ad inserirsi nella difesa ecco qui sempre le distanze sono discutibili se non ricordo male però se non ricordo male qui durò 15-20 minuti il 4-3-3 poi cambiamo perché Di Maria doveva scendere a destra qui si intravede Di Maria che sta scendendo a destra no? poi smette di farlo dopo un quarto d'ora 20 minuti e andiamo 4-4-2 se ricordo bene era l'intenzione iniziale diciamo sì sì diciamo che è partito proprio così era un periodo in cui Allegri stava cercando di giocare vi ricordate il secondo tempo con la Lazio contro la Lazio mise proprio 4-3-3 con Chiesa a sinistra e Di Maria a destra un 4-3-3 diciamo povero dei principi però comunque come disposizione era quello l'abbiamo visto anche in altre situazioni qui con la Roma quando entrò Pogba la Juve si dispose appunto in questa maniera vedete sempre con le due mezzali che cercano tra le linee il giropalla con gli esterni bassi che danno l'ampiezza ecco quindi questo è il sistema di gioco che secondo me Allegri aveva in testa all'inizio della stagione e che non è riuscito a fare all'inizio per tanti motivi infortuni prima di tutto però secondo me lui questa squadra l'ha pensata così con il con il 4-3-3 e non escludo che magari quest'anno ci proverà di nuovo ecco ovviamente questo ce lo dirà il il mercato però secondo me si partirà da la difesa a 4 e il centrocampo a 3 che secondo me sono delle colonne portanti del gioco ma abbiamo abbiamo i giocatori portanti per la difesa a 4 e il centrocampo a 3 o dobbiamo andarci a grappare quasi unicamente al mercato in un mercato difficoltoso perché sarà comunque un mercato dove la Juve da quello che sappiamo non si esporrà finanziariamente quindi avrà una contabilità attenta per esempio nella capacità di produrre cessioni però comunque rivoluzionare la rosa e andare a cercare le colonne portanti può essere un problema quest'anno quindi chi sono le colonne portanti della difesa a 4 del centrocampo a 3 mister a questa difesa per fare una difesa a 4 fatta bene manca un centrale mancino e un esterno sinistro basso a destra io vedo molto bene e a centrocampo a centrocampo secondo me davanti alla difesa può andare avanti con Locatelli affiancandogli Rovella una mezzala è sicuramente Fagioli che secondo me deve essere titolare e poi l'altra mezzala tutto dipende da Pogba o da Rabiot Rabiot se verrà confermato quindi insomma sono l'attacco secondo me può diciamo con un 4-3-3 o 4-3-1-2 si può organizzare in maniera diciamo giusta ovviamente mantenendo i giocatori che hai quindi Chiesa i Blau anche se vengono dati in partenza lanciare definitivamente healing cioè ci sono tante soluzioni secondo me davanti se poi c'è la disponibilità o si riesce a trovare anche qualche giocatore prendere un altro esterno offensivo al posto di Di Maria potrebbe essere utile Prenderesti Orsolini? Orsolini quest'anno ha fatto una gran stagione devo dire e ha giocato proprio esterno offensivo a piede invertito era nostro però l'abbiamo dato via a andare a riprendere tanti anni fa è un buon giocatore una una come dire un rammarico diretto per Orsolini no cioè insomma anche il giocatore è dovuto ripartire rimettersi in discussione dopo i primissimi squilli che aveva avuto da giovane in categoria insomma il giocatore ha fatto un percorso anche travagliato se vogliamo si è sparato anche la panchina a Bologna in certi periodi quindi a Bergamo aveva aveva vissuto forse l'esperienza che l'aveva un pochino veramente poi condizionato preso poi scartato in fretta in un contesto dove sembrava essere veramente l'uomo giusto ripartito e sì quest'anno sicuramente la sua miglior stagione per continuità eccetera intanto intanto cosa volevo dire se invece quindi sostanzialmente tu dici che sia Allegri o che sia un nuovo allenatore questa squadra deve partire ragionando che ci sono tre pezzi da prendere due uomini in difesa Mancini e un centrocampista se il mercato delle uscite ti dà lo spazio per metterlo perché siamo in mille a centrocampo attenzione Luca stiamo ragionando su Allegri cioè io sto ragionando su Allegri e invece su un altro se arriva Tudor hai bisogno di un giocatore solo il braccietto di sinistra della difesa tre il resto ce l'hai tutto Pau Torres metti un Pau Torres che non ha mai fatto la difesa che non ha mai fatto la difesa tra vita sua detto questo no 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 Luca l'ha fatto nel Villareale a volte Emery ha giocato con la difesa tre anche contro di noi l'ha fatto mi ricordo no no davvero l'ha fatto sì sì non mi ricordo questa cosa di Emery con la difesa tre sinceramente però devo andare a verificare tu dici contro di noi a ritorno sì a ritorno ma se non ricordo mai anche all'andata però comunque ha provato a giocare da braccetto Scalvini Scalvini ottimo giocatore anche lui prendiamo bastoni perché l'Inter ha bisogno di soldi sì non credo però a quel punto a quel punto in tutta fascia ce li avresti perché a sinistra a sinistra i costi chilling a destra ci metti chi vuoi quadrato decilio cambiasso non lo so quindi a centrocampo avresti un giocatore in meno perché Tudor gioca con i due mediani anche se lui dei due trequartisti perché Tudor negli ultimi due anni ha fatto il 3-4-2-1 dei due trequartisti uno è sempre un centrocampista quasi se non sono mai due attaccanti mette sempre un centrocampista e lì Fagioli secondo me sarebbe perfetto visto come si inserisce senza palla visto come vede il gioco e le punte ce le hai quindi io dico ragionando su Allegri secondo me se lui vuole tornare alla difesa 4 l'intervento sulla squadra deve nel mercato deve essere per rinforzare la fascia sinistra se invece arriva un un allenatore che fa la difesa 3 a quel punto i giocatori già ce li ha ma se giochi con due a centrocampo devi fare davvero un mercato in uscita ma davvero un grande lavoro e siamo già in ritardo con quelli che rientrano consentimi di dire Giuseppe che per fare il centrocampo a due in questo momento devi pensare cioè devi avere il centrocampo a due deve avere motore nelle gambe no allora io ti dico oggi per carità ne abbiamo talmente tanti che uno può dire ah giochiamo con lasciamo stare a BIO per un attimo no Zaccaria giochi Locatelli Zaccaria però hai è un centrocampo che ha che ha dinamismo è assortito o devi andare sul mercato a prendere un super titolare però di nuovo cosa fai hai una schiera di giocatori che vanno che arrivano a Fagioli Miretti Rovella e diventano tutti rincalzi rincalzi che non è una brutta parola però ricordiamoci che tanto più non dovessimo fare la conference questo lo verificheremo presto noi le partite non è che stai lì a dare minuti vai scendi e per vai gli unici migliori per vincere punto e non lo so cioè è complicato devo dire che col centrocampo a tre hai più molti più margini di manovra anche nel gestire l'organico secondo me a due a due io ti dico che oggi è veramente un terno all'otto dire con questa coppia posso partire già bello coperto e garantito ovviamente c'è quel grande punto interrogativo su Pogba Rabiot non lo consideriamo e quindi diventa complicato dire gioco Fagioli Locatelli faccio un esempio e e provo a stupire tutti sì sono giocatori a due Locatelli già giocato parecchio tempo però però in un contesto calcistico molto diverso e con pretese molto diverse però bisogna sempre ragionare secondo me per principi Luca cioè immagina la difesa tre il tre quattro due uno di è diverso perché è più un uno contro uno a centrocampo la squadra è più alta quindi non dobbiamo pensare ai Locatelli o a qualche altro giocatore come l'abbiamo visto quest'anno quindi un Locatelli che fa il difensore aggiunto davanti ai centrali ma è un Locatelli che dovrà giocare in maniera diversa ma così come il suo compagno di centrocampo chiunque questo sia sarà non lo so Rabiot Rovella Fagioli non lo so Pogba però comunque sarà un modo di giocare diverso è lì che bisogna ripensare alle caratteristiche dei giocatori inserite in un contesto tattico diverso quindi io non vedo tanti problemi se provo a ragionare per come diciamo schierano e come fanno giocare le proprie squadre di vari Tudor Allegri eccetera quindi con Allegri penso che sarà il centrocampo a tre la base sì anche secondo me anche che secondo me va così intanto buon pomeriggio anche a Ermi Manu vedo Ale Porcelli Ikebana noi quest'anno abbiamo avuto un milione di problemi in un milione di situazioni e settori di campo a volte anche molto diversi da una partita all'altra però però resta questo tema che quest'anno chi ha sicuramente deluso è il reparto offensivo diciamo questo voglio dire oggettivo e mi stupisce che che il minister dica davanti se fossimo questi ma anche togli ne uno togli i mili che non lo riconfermi adesso togli ne due in realtà perché non c'è più di Maria questo è già sancito però davanti non sono così preoccupato poi andiamo a parlare di che fine possono fare Chiesa e Vlaovic tra poco dalle 17 17 qualcosa separiamo arriverà Nicolò Schira eccetera eccetera parliamo di mercato parliamo di attualità eccetera intanto salutiamo Marijuana One all'Olanda giustamente solo lì può avere questo link perché è consentito solo in Olanda e Selvason Nikon M83 Charlie Brown parto da te Giuseppe su questo tema dell'attacco eh no nel senso anche tu sull'attacco dici ma alla fine è stata anche un'annata maledetta gli attaccanti sono bravi quindi se tu anche avessi questi davanti si va alla grande questi guarda la grande domanda è chi questi questa è la la domandone perché dopo ok se tu giochi a due davanti e hai Lucian Vlaovic Federico Chiesa Kin o Ken e chi rimane non so chi è adesso abbiamo siamo in tre vero sulle se ne va forse in prestito forse lo vendiamo questo non lo decide sulle no non lo so però chi rimane questa è la la buona domanda perché non so chi rimane dopo io dico che quest'anno abbiamo avuto tante difficoltà a a dare segno a trovare gli spazi a creare e quando creavamo a volte quando c'era possibilità mancava anche di di confidenza davanti al gol dunque per me c'è tanto da rifare davanti anche prendere decisione è per questo che ti ho detto quando noi andremo sul mercato dobbiamo avere davvero un'idea fissa io ricordo che tu un anno fa hai detto live il mister ha detto non è tanto non è una priorità per me scegliere come giocheremo queste sono le tue parole di un anno fa e penso che questo ha creato penso io un po' di problemi perché la Rosa non è mai stata davvero completa in termini se tu gioca quattro dietro hai problemi davanti se tu gioca tre hai problemi di un altro reparto io spero che davvero abbiamo una un'idea chiara di quello che possiamo fare ma mister ovviamente lascio la risposta finale a te sull'attacco mi attacco mi aggiungo dobbiamo fare meglio è quello che diceva Giuseppe perché il vero il vero la vera notte inclusiva che noi abbiamo sull'attacco perché i nomi li conosciamo cioè non è che siamo lì possiamo farci la battaglia a Chiesa quello di prima cioè secondo me il tema è che non sembrano mai raggiunto un livello sufficiente di intesa Luca cioè tra attaccanti io questo cioè ogni volta mi sembra giocassero insieme per la prima volta ma io trovo questo un deficit incredibile che ci ha penalizzato tantissimo vai scusa Giuseppe io adoro avere più moduli e più soluzioni in gara in partita però se tu guardi l'Inter e non sono qui per dire che amo l'Inter esce esce Zeko e entre Lukaku Correa per Lautaro c'è Mkhitaryan per un centrocampista Gosens per quello però è molto chiaro l'idea di gioco è chiara è molto chiara dopo l'Inter e l'Inter però l'idea è quella e il giocatore che entra sa quello che deve fare e questo forse a noi è cambiato perché esce un giocatore e dobbiamo cambiare il sistema e questo non va bene mister sull'attacco sull'attacco in teoria il mister dice in teoria finché non mi dicono che vendiamo tizio con questi tutto sommato siamo abbastanza tranquilli ci sta a inserire uno in base se vuoi giocare con il tridente se vuoi giocare con la coppia però tu dici lì anche se i numeri ci hanno dato torto e le partite ci hanno dato torto tu dici lì non sono così preoccupato allora il reparto d'attacco è vero che è un po' deluso ci sono stati dei problemi fisici c'è stato infortuni li hanno passati praticamente tutti da da chiesa che arrivava dall'infortunio che sappiamo Ken Vlaovic Di Maria Milik hanno avuto tutti infortuni importanti quest'anno quindi insomma questo ha condizionato sicuramente il rendimento del reparto d'attacco ma il problema della Juve non è stato tanto il rendimento degli attaccanti è stata la proposta offensiva che secondo me è stata carente perché la Juve ha lavorato su delle cose cioè si è visto quest'anno un lavoro più dettagliato più preciso nella fase di costruzione cioè io l'ho isolata qualche qualche slide per esempio la costruzione a quattro vedete come qui è con lo sporting come i due centrali si allargano Scesni ha più possibilità di giocata con Locatelli che si abbassa abbiamo visto questa situazione il quadrilatero a centrocampo con Danilo che stringe e va a fare il mediano per portare più giocatori oltre le linee del centrocampo avversario cioè qualcosa la Juve in costruzione ha fatto ma ciò che è stato carente è stata proprio la proposta offensiva perché secondo me Allegri ancora adesso si affide alle qualità individuali dei propri giocatori più che ha delle combinazioni offensive provate studiate o ha dei principi non è detto che si debbano fare degli schemi e provare sempre quelle ma un'idea cioè l'attacco dello spazio senza palla la ricerca della superiorità numerica davanti ecco non improvvisata ma costante come abbiamo visto per esempio nell'azione del Manchester del gol dove vedi un centrale che va a fare va a dare l'ampiezza cioè non è detto che debba essere per forza il terzino o un esterno alto se lì devo rompere la difesa la linea di difesa avversaria ci mando chiunque si trova lì ma perché lui sa che quello è un principio ovvero l'ampiezza deve essere presa comunque ecco tutte queste situazioni secondo me la Juve non le ha sviluppate quest'anno e io spero che Allegri lo possa fare quest'anno quindi a livello di proposta offensiva non possiamo più vedere cose di questo tipo cioè il lancio lungo sulla punta isolata che io chiamo come tanti allenatori chiamano è quella cosa che descriveva Guardiola ieri sera il lancio sui denti esatto il lancio sui denti degli attaccanti questo è un'espressione di De Zerbi ma Guardiola lo dice sempre cioè la squadra chiusa dietro e mandò la palla sulla punta l'abbiamo visto tante volte vedete queste situazioni dove l'attaccante cosa può fare può fare veramente poco oppure questa situazione dove io posso giocare posso costruire ho la possibilità di farlo i tempi e gli spazi per farlo e le soluzioni e invece cerco la soluzione lunga l'abbiamo visto tante volte vedete qui come c'è la possibilità di venire su col pallone invece invece lanciamo lungo oppure il problema del centrocampo schiacciato quante volte l'abbiamo visto guardate qui con lo Spezia dentro l'area cioè vinci uno a zero e dai tutti i giocatori dentro l'area e lasci il palleggio anche a squadre come come lo Spezia ma l'abbiamo visto col Monza guardate qui noi in possesso palla e tutta la squadra dentro l'area di rigore o come con lo stesso Sassuolo stessa cosa vedete cioè il giocatore è una soluzione di gioco io capisco che noi ovviamente poi alla lunga li associamo a dei principi perché nulla noi sappiamo che le cose non succedono per caso però ti faccio anche questa domanda così enfatizzato per quanto Allegri non sia mai stato super spregiudicato se non in alcuni momenti tra l'altro topici della nostra storia a me viene a pensare che così così estremo sia dovuto al fatto che Allegri non si fida della squadra cioè se io ho quella richiesta e la squadra la fa in queste situazioni perché magari sei andato in vantaggio alla spezia e mancano 40 minuti alla fine però non 4 lo fai perché tu non esplicitamente e magari neanche razionalmente io non voglio dire però di questa squadra non ti fidi e qui getto l'amo poi verso il futuro di cui parleremo a breve c'è Allegri di questa squadra sapendo che non potrà fare il mercato che vuole la Juve che vorrebbe o che farebbe se fosse davvero ancora una delle otto più grandi d'Europa si fida c'è la base in partenza e mi sembra tutti fidi di questa squadra io gli ho chiederei io il dubbio che ho non è Allegri un super difensivista vuole difendere 10 in area sempre eccetera ma è lui non sente questa squadra affidabile per fare per assumersi tra virgolette dei rischi che poi sono i rischi relativi non so tu dici che sono fuori strada mister no no sono d'accordo e ti spiego il messaggio che lui secondo me lancia alla squadra è per esempio abbiamo lavorato sulla costruzione partiamo dal portiere ci posizioniamo bene però se ci pressano troppo e andiamo a rischiare buttatela su non ci crede neanche lui in questa cosa che tanto c'è Vlaovic che le tiene tutte cioè se tu ci credi in questo tipo di gioco costringi tra virgolette inviti i tuoi giocatori a rischiare a rischiare a rischiare anche in quelle situazioni lì prenderai un gol ne prenderai due però nel momento in cui i tuoi giocatori sono consapevoli di poter dominare il gioco partire facendo l'azione eccetera e portare sulla palla con più giocatori e non buttarla su le azioni offensive ti ripagano di quei due errori invece a me sembra veramente che nemmeno lui ci creda in questa cosa perché quando vedi quei lanci lunghi che abbiamo visto tante volte durante la stagione per non rischiare per non rischiare dici è l'allenatore che gli dice ragazzi buttiamola su se abbiamo paura Giuseppe chiudi tu poi andiamo sull'attualità sulla mia stessa osservazione sulla se sono i principi o è la fiducia su questa squadra giustamente qualcuno in chat adesso tra poco poi vi coinvolgiamo tutti anche sull'attualità diceva eh però scusa ho cambiato i 15 giocatori in due anni da quando è arrivato lui per carità il mercato lui non è manager come Ferguson come Van Ger però insomma diciamo l'ottanta per cento sono totalmente avallati e non si fida della squadra Luca l'ha detto lui al fine stagione ha detto avevamo un'idea che avevamo lavorato ci avevamo lavorato su in estate e ci siamo ritrovati all'improvviso ad aver cambiato tutto in corsa e io penso che lui è davvero rimasto molto dispiaciuto della scelta di Paul Pogba perché lui sapeva aveva capito subito che sarebbe stato molto lungo anche il fatto che Federico Chiesa non tornava in tempo come voleva lui Di Maria che all'inizio della stagione ha avuto difficoltà è un Paredes che non ha reso per quello che voleva lui io penso che davvero aveva un'idea di gioco si è ritrovata con una squadra che lui forse non ha creduto sai che più che all in su Di Maria che chiaramente era il giocatore un po' la variabile tra virgolette lì la variabile no per me per me nella testa di Allegri era veramente Pogba ah Pogba si si no no intendo dire l'all in all in noi lo rigeneriamo in due tre mesi contando da inizio luglio eh non da ma io penso Luca se posso io credo che lì lì sia stato il peccato originale ma forse anche semplificare i problemi di questa squadra dicendo con Paul la risolvi sì però di nuovo un aggrapparsi al passato poi Paul sappiamo che Paul è forte ma tu lo vedevi anche in conferenza stampa io sono io sono quasi non ho non ho inside news però io sono quasi certo che un Max Allegri è andato in società a dire io ci metto la mano sul fuoco su Paul Pogba io ci gioco tutto su Paul credetemi avete fiducia in me arriva Paul Paul prende questa decisione e lui ci è rimasto molto male e lo vedi dalla prima conferenza stampa il suo viso che lui non è contento con la scelta che ha fatto Paul di non andare subito a fare l'operazione lui sì sì per me questo è un momento clou della stagione ragazzi allora io ringrazio il ministro e Giuseppe che resteranno con noi Luca Luca scusami se ti interrompo mi dai un minuto solo un minuto solo velocemente perché ragiono da allenatore allora quando si parla la squadra si parla prima delle cose negative ma la squadra bisogna sempre lasciarla parlando di qualcosa di positivo e io qualche cosa qualche slide di positivo di quest'anno l'ho isolata e volevo farvela vedere che secondo me sono i punti di partenza carrellata carrellata così ci lascia con il mood positivo il ministro anche a noi noi siamo la sua squadra esattamente quindi pressing e io non a caso ho scelto la partita con l'Inter che abbiamo vinto a San Siro una delle migliori che abbiamo fatto quindi più coraggiosi nell'andare a pressare la squadra avversaria vedete qui come siamo stati bravi a chiuderli e l'Inter non riesce a costruire pressing anche nella nostra metà campo vedete come l'Inter in fascia non riesce ad uscire e i giocatori sono tutti molto presenti proattivi e cercano di pressare gli avversari e chiudere tutte le linee di passaggio quindi migliorare la fase di pressing ok l'uscita corta guardate qui qui non viene buttata via la palla Costic gioca su Rabiot Rabiot su Chiesa Chiesa su Costic e qui andiamo via in contropiede saltando la linea di pressing dell'Inter quindi quello il discorso che facevo prima giocare la palla a terra per avere più giocatori che portano sul pallone e non solo lanciare l'uvo e poi inserimenti senza palla fagioli vedete qui fagioli come si butta nello spazio dietro le spalle dei difensori dell'Inter e questa è una cosa che va fatta sempre non solo dai centrocampisti ma da tutti i giocatori della Rosa nella fase di attacco e alla fine facile questa però è tutto più facile se c'è De Sciglio in campo qui c'è la De Sciglio certo e poi l'ultima è l'occupazione dell'area di rigore vedete qui siamo in attacco e abbiamo dentro cinque giocatori la palla di Sule sul dischetto esattamente la palla di Sule quindi coraggio coraggio nell'attaccare con tutti i giocatori ci scopri attaccare il pallone attaccare il pallone questo è fondamentale attaccare questo volevo far vedere ma io partirei da attaccare il pallone da riattaccare il pallone prima roba poi anche gli spazi anche se non sono mamma mia Momblano che è simpatico adesso De Sciglio vabbè era per chiudere appunto no perché ho visto che un'azione tremendista De Sciglio Fagioli sulla destra sai che non ricordavo che Inter di Juventus è giocato De Sciglio mea culpa è giocato